buona sera a tutti ragazzi sono luigio naracu se preferite e benvenuti all'analisi dell'esa di omega str allora allora parliamoci chiaro dovrete capire bene cosa intenderò con tutti gli insulti che darò a questo pg perché sono insulti riguardanti il gioco nello stato di prima settimana di novembre 2019 poi per quanto ne sappiamo ultimo 6 novembre naturo sharon leader draghi malvagi più altra categoria che dentro full power cambia completamente tutto quanto che cambia completamente tutto quanto ma oggi a oggi questo è probabilmente parlando di giocabilità soltanto il peggior esame è uscito proprio parlando solo di giocabilità naturalmente poi come pg è anche pensato bene ma iniziamo ad analizzarlo sono qua 14.548 hp 136 43 attacco e 11.310 di difesa la leader skill migliore in più 4 chi è sta 100% a istr ottima leader skill per il battlefield se non avete di meglio se avete di meglio la utilizzerete abbastanza poco però è giocabile la passiva la passiva la passiva in realtà non mi dispiace completamente è un onesto attacco e difesa 80% inizio turno mi va bene diventa buffer della categoria full power e qua è la prima cazzata è la prima cazzata ma cazzata grossa 2 chi è 40% attacco non da boost alla difesa va bene ormai siamo in un momento in cui il boost alla difesa è quasi più importante di pollo all'attacco perché sennò si viene shottati però va bene e meno 40% attacco tutti i nemici quindi è probabilmente per questo che non hanno messo il boost alla difesa ci può stare però ricordiamoci che esistono pg che non sono debaffabili non esiste che te non puoi buffarti la difesa quindi un 40% di difesa in più in alcuni casi non sempre risulta un pochino più massiccia link non si è neanche messi male bossa beat down fire and fate bvb shock in speed gt shadow dragons e first battle category shadow dragon saga e full power allora andiamo con ordine a insultarlo andiamo con ordine perché fare tutto quanto adesso nell'apertura poi non saprei cosa dirvi nelle varie schede guardando unicamente al pg passivo e tutto quanto la cosa che mi viene da dire è brutti deficienti brutti cretini ma perché l'avete fatto uscire adesso che ha due categorie questo pg sapete quando doveva uscire il momento in cui usciva una nuova categoria che racchiudeva tutti i shadow dragon quindi con nuovi pg shadow dragon almeno due un dockham festival che sia sia in evoluscio che sia naturo in sharon che sia mio nonno in cariola non me ne frega bastava che usciva una nuova categoria e lo facevi diventare buffer di quella categoria non così da nulla full power che non è mai stato giocato in full power sto tizio e piccolo segreto continuerete a non giocarlo e invece no facciamolo uscire adesso perché sì perché tanto a nessuno è mai fregato nulla di o come il sharon str e continuerà a non fregar nulla di o come il sharon str nonostante delle cose positive che il pga in quanto non è tutto merda quel che puzza in questo caso il pg seppur offensivamente non sia sceso in terra perché 80% attacco vabbè arriva a 120 con la passiva ma non è chissà cosa genera abbastanza danno un 40% è full power dove abbiamo alcuni pezzi da 90 del gioco si sentono quindi non possiamo lamentarci completamente del quanto danno genera difensivamente anche un whiz per un turno ragazzi perché la damage reduction equivale al debuff quindi abbiamo ogni volta che lui è in turno un whiz attivo per moltissimi pg può bastare però non per tutti non per tutti gli account un 40% ci sono casi in cui il rodati attivo i whiz buschia sangue soprattutto con alcuni pg che guarda caso sono dentro full power quindi non è tutto merda quel che puzza però ci si avvicina molto è un pg più difensivo che offensivo nonostante tutto perché quel 40% attacco di debuff è il vero fiore all'occhiello di omega non il 2 chi è 40% attacco perché full power non ha bisogno di buff all'attacco di chi full power è messo bene come team non ha problemi quindi non è tanto quello i link non sono neanche malvagie abbiamo Broderby Down e BBB oltre a Shadow Drangus che non utilizzeremo mai a oggi ma proprio mai da nessuna parte però li abbiamo naturalmente però ci sono tanti tanti punti deboli sul piano giocabilità ragazzi io che minchia devo dirvi ma sapete quanto ci ho messo a crearvi un team qua che non prendesse l'LR ci ho fatto un team alla cavolo di cane è un team full power tu un'azione 2 broli tu un'azione 2 freezer un paio di buffer il terzo broli è un team del cavolo sto pg ha tantissimi problemi di giocabilità lo potete giocare in full power si ma full power tende ad avere parecchi super buoni oltre al fatto che senza l'LR perde una marea come team ma penso lo sappiate benissimo anche voi quindi è un team che necessita di l'LR che non tutti hanno fbf l'LR broli v2 soprattutto broli v2 gokusa no scusate gokusa era in full power gokusa si era in full power gohanagl la family volendo ck quasi tutte super come vedete ragazzi si sente sinceramente il fatto che sia extreme con link che non servono a un cavolo in un team super si sente quei due ki non cambiano di tanto la vita quel 40% attacco è buono assolutamente però magari ci mettete un altro dpt che genera comunque più danno e comunque se volete mettere un buffer mettete qualcosa che porti al massimo gokusa ok va bene in combo con gokusa cioè questo pg in combo con gokusa dice qualcosa perché da un bel debuff all'attacco da due ki che non sono tantissimo ma da due ki permette a gokusa di giocare primo o secondo dove cavolo vuole non è obbligato a giocare in chissà quei modi quindi è un partner interessante ma gokusa molto spesso ha bisogno di più di due ki è l'unico davvero che ha bisogno di molti ki in full power per questo si tende a giocare tien scusate e questo pg ok può essere un supporter simpatico ma si ferma là dove altro lo giocate shadow dragon non può il leader si chiama omega sharon quindi è una categoria che potevano non dargliela extreme str è un conquest of terror transformation boost lui non è né l'uno né l'altro come lo giocate io io non so con che cervello cioè non sto neanche a dire che ci volessero i miracoli a farlo decente bastava aspettare se facevi uscire adesso che ne so trunks rage anzi no rimanendo sull'ocampia è questa vegeta blu che non c'entra un cazzo con questo terror ma questo pg c'entra ancora meno con questo terror cioè potevano almeno metterlo in quella categoria come io pensavo ci fosse all'inizio perché cavolo un whiz in conquest of terror a BBB è un whiz vivente qualcosina si può fare avrebbe avuto meno insulti avrebbe avuto valutazioni un po' più alte è l'ennesimo str comunque è un team fisico str praticamente non nella versione optimale ma nelle versioni frisa family però cavolo così no così sinceramente no così lo reputo un'esa del cazzo per adesso ragazzi uso parole forte perché sono abbastanza incavolato poi si sente perché davvero omega seppur non sia chissà che pg seppur non è che ce l'abbia non è uno di quegli esaco abiliti full però ce lo dovrebbe avere abiliti 1 abiliti 2 meno male cavolo mi aspetto un pg che mi faccia dire dove gioco il fisico ma butto via neanche si poteva in realtà perché il fisico lo gioco praticamente soltanto in shadow dragon non può prendere il suo posto però capite cosa voglio dire è un'occasione che dire sprecata e usare un eufemismo va bene fare buffer ipg mi va benissimo è intelligente come mossa tutto quanto ma non mi andate a fare buffer di full power piuttosto mi aspettate a farlo uscire me lo fate uscire quando c'è una categoria adatta fate uscire un cazzo facevate uscire cooler mese prossimo questo mese sinevolution barra natural sharon se volete tenervi sinevolution magari per un lr ma neanche vado a natural sharon va bene anche su sharon evolution dato che c'è la parte in cui si toglie l'armatura per aumentare la velocità c'era una marea di possibilità su sharon ritirata che viene quello del ghiaccio quante cavoli possibilità avevate quante ragazzi è un pg buonissimo in road ma una volta avete fatto già la full power vi ci pulite il culo praticamente perché non serve più a nulla nelle altre modalità che vi serve cioè in rival non dà boost difensivi lui ha una brigiola di difesa non picchia rischiati i vini shottati ogni volta che guarda Goku male nei dock and event avete 100.000 cose più veloci di lui dove minchia lo giocate? nella road per una run poi lo prendete e lo buttate nel cesso magari quella run vi aiuta però la full power con gohan agl dov'è che è difficile un contro verrà fatta prima ma c'è gohan agl ha distrutto quella povera road l'ha disintegrata quindi boh ragazzi gli do la sufficienza solo perché ho la speranza che da qua a fine anno esca un leader di una categoria nuova che lo faccia risplendere ma ci vorrebbe davvero un leader di una nuova categoria in cui anche omega e quella categoria è pressa poco quasi solo full power quindi ci vogliono proprio gli astri allineati altrimenti qua siamo a livello di shit boo questo è uno dei worst 2019 sappiatelo oddio a livello di shit boo no dai quella è troppo cattiva come cosa però mi aspettavo molto di più davvero sono terribilmente deluso non lo porterò neanche al 140 sinceramente non vedo utilità per me almeno poi ripeto non avete fatto la road full power quell's più è là per un motivo è un whiz se tenuto in tornazione è un whiz diverse volte può avere la sua utilità però davvero dispiacere noi ci vediamo quindi con l'analisi di Beerus che non si discosta molto da questa qua di Omega però è un pochino più positiva perché Beerus guarda caso ha un linking partner esistente ha più categori cose un pochino più giocabili ma vabbè vi auguro una buona giornata e alla prossima cioè mi sembra di vedere quelli che hanno dato 3 a Dead Stranding cioè più o meno l'intelligenza di chi ha fatto questo ese è uguale vabbè è uguale è uguale è uguale